Lo spettacolo presentato all'auditorium dell'Ulm si intitola Colas ed è uno spettacolo che ormai è una storia molto antica, è uno spettacolo del 1989 e parla di un grande tema che è quello della giustizia e dell'ingiustizia, è una storia realmente accaduta nella metà del Cinquecento in Germania, Aris von Kleiss ha scritto un bellissimo romanzo intitolato appunto Michael Colas, io l'ho preso, l'ho travolto completamente. Questo spettacolo segna in Italia l'inizio del teatro di narrazione. Renato Palazzi, un critico teatrale, disse ma come la chiamiamo questa cosa che non si è mai vista? Che cos'è che non si è mai visto? Che un attore sta seduto su questa sedia per un'ora e venti, uno spettacolo dove c'è un attore che racconta e nacque così l'idea di quello che poi è diventato un fenomeno teatrale diffusissimo oggi. Il teatro è una forma di aggregazione comunitaria, quando c'è uno spettacolo teatrale si crea un embrione di comunità che dura la durata dello spettacolo. Ricordiamo sempre che nel teatro l'attore o gli attori danno un appuntamento agli spettatori, quindi gli spettatori si spostano da casa, che vuol dire spegnere la televisione o non guardarla, attraversare la città, valorizzare i luoghi della città, spesso succede quando si fa teatro in posti marginali, in zone di periferia, io ne ho fatti tantissimi e penso che abbia un valore politico eccezionale. Il fatto di far sì che in quella serata quel particolare teatro illumina per certi versi l'intero quartiere, perché in quel momento è accaduto un fenomeno che in questa società è molto raro, che è quello dell'aggregazione per potersi guardare negli occhi, per potersi confrontare, per poter stare in ascolto di qualcun altro, quindi accade un dialogo che non ha molto a che fare con la velocità dei social e della comunicazione odierna, ma che comunque ha un valore ancora enorme, fortissimo, tanto è vero che sono 3.000 anni che lo facciamo e ancora siamo qui.